ragazzi oggi sono nel biellese precisamente a europa c'è un bellissimo santuario sono qua per la fiera di europa adesso vedo dove andarmi a sistemare mi sono anche portato pioggia chiedo a qualcuno informazioni giro un po più lungo perché a questo santuario qua è immenso magari quando scello pioggia vengo a farmi un giro fino a qua con pioggia andiamo a parcheggiare una pioggia già si è presa dominio del pascolo magari mi scappa anche qua a europa come fa da tutte le parti poi ho già trovato tra sei suo padre nonno al donno di dove siete seravale sedia andrò poi a trovare anche voi e cosa fate margari no allevatori ma allevatori cosa allevi bovine pensate rosso austriaca austriaca non d'europa no no per ora no nei tanti capi no iniziato adesso finito la scuola ah beh sono 19 anni ebbene adesso ne ho sei bisognava iniziare a cinque o sei anni a nonno eh no no bisogna fargli lavorare sti giovani diventano tutti ma quando ne aveva 40 lui è sempre molto bestia e fai formaggio? no cerca il fai formaggio ah si? sì un tempo no adesso ne ho partito l'anno scorso fanno centri video l'anno passato e come ti chiami? Alessandro Micheletto e come mi commenti su youtube? ah non commenti guardi solo i video non vale devi commentare ci vediamo ancora dopo allora adesso mi guardo a pioggia ah ma è lì lei muovi mica e tu invece che guardi i miei video? io sono Idoardo e di cognome? cosa è Casella? sei di qua? sì di Biella ah di Biella Biella così la per precisione così la ok allora oggi ti lascio la mula così me la guardi adesso aspettiamo che arrivino le vacche quante ce ne sono? quanti capi? non so i capi ci sono tutte quelle file là in fondo sono sveglienti ora mettiamo la sella a pioggia allora qua altri fan che guardano i miei video di dove sei te? di Armeno che sarebbe? provincia di Novara lago d'Orpa lago d'Orpa mi dicevi fatta anche una fiera 9 ottobre 9 ottobre fai la fiera sì ti lascio il numero di telefono ma sarà difficile perché è distante e poi allora si faccio fai le foto tu invece con scritto con scritto Sandiliano come ti chiami? Tiero e cognome? mi commenti su youtube o no? certo ah perché io ti dico talmente tanti che pioggia poi facciamo un giro nelle bancarelle la ruia feri ho già preso il legno dai porta vieni dai porta sì c'è dei cani me lo dicevano buongiorno saluta qua sei poi nei miei video oramai mi conoscono dappertutto il teggio è la misa ma mi sono andato per il bar tempo a pensare ciao 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 guarda sempre brauti uno vuoi buttare per l'altra maglia? uno vuoi vedere tu chissà che mi hai fatto sono Davide, l'adresse e qua sono le tue bambine ciao ciao come vi chiamate? e tu? e la mamma? anche loro nel video chiamate qui c'è la merda vieni 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 pioggia oggi è di nuovo la mascotte di tutti ma la morgilla la taglia taglia il ner ciao e tu come ti chiami? ronni che commenti su youtube che commenti su facebook che è uscita con pioggia adesso pioggia, corre dietro a tutti i live bello bellissimo ciao tu ti chiami? Paolo di Lessona di? Lessona dove sarebbe? sarebbe vicino a Cossato ah boh ah che io sono amico di Riccardo ah Riccardo il fieno fa il fieno fienagione si ma una volta facevi il paglio ah si 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 e ti segui tutti i miei video quasi tutti metti pure hai fatto di chilometri quest'anno abbastanza chiudo ma quanti anni ha la tua mogletta? sei anni ma è buono eh sì si fai anche qua nei video di dove sei te? io dalla Lomellina ok arriviamo dalla Lomellina siamo venuti a casa continuo a guardare i video grazie ciao grazie ciao pioggia laggiù l'ho persa in mezzo alle vacche lui è ice ciao io sto filmando così ti metto anche nei video guardavo qua oh no ne perdo uno bravo specialmente quelli della Valle d'Aosta è un altro mondo un altro pianeta la Valle d'Aosta allora questo è la friga io non lo conosco e tutto va a tutti ma poi vado a conoscerlo perciò 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 Grazie a tutti. 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 Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao. Di dove? Ciao, ciao. 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 Ciao. Ciao, 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 ciao. Isaia, ciao. Allora Eusebio guarda un po' qua si ha trovato, saluto ovvio, ciao Eusebio, con pioggia al bar, non manca tu, ciao Eusebio, dobbiamo ancora salutare Stefano Meccheri dell'Alpeggio con voi, giusto? Mario Glerin, Mario Glerin, parla ma tanto resisto, Mario Glerin, voi vi conoscete tutti, quello piccolo come lui, ciao Stefano, Stefano i video li guarda poi questi in vano perché adesso non prende la teleponata, salutiamo tutti qua il bargano li voleva comprarlo, non resiste, allora raccontami qualcosa, guardi i miei video, ma ti piacciono i miei video? Sì sì, ma io sono appassionata di mucche e di animali consigliami dove devo andare, io vado a fare... Su questi posti ce ne sono di mucche come ti chiami? Matteo, mi commenti su YouTube o no? No, 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 commenta allora qualche volta ti fai riconoscere, ci siamo conosciuti qua alla fiera a Europa? Sì sì, va bene ciao Matteo, ciao ciao questo è il gioco dell'amora ragazzi qua ho trovato Marco Mantello, Mantello, il Moscarolo, Castello lo conosce come è Castello? Era il Moscarolo. No, 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 no. Allora, te da a posto questo in vano facciamo di nuovo qualcosa, Giudelena la proviamo? Proviamo? È un buore, un buore. È un buore? Senza di te, qualche c'è me, e ancora più belle E di mio cuore me lo diceva di non amare, di non amare Senza di te, qualche c'è me, e ancora più belle Saluto a tutti gli amici di Youtube, io ritorno a Cuneo, sta facendo di nuovo buio Con la butta a mano, è stata una bella festa, ciao 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 a tutti e al prossimo video Ciao Ciao Allora, è stata una bella fiera E io ritorno a Cuneo, in Val Maira Ma già che è, su me Ciao, ciao, ciao Ciao No, 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 non è questa qui Dai, che è il caso di Youtube però, eh Che è la mamma però L'ho già cercato tanto L'ho già cercato in vano E lo è lupo E lo è lupo L'ho fatto buio Non mi lasciavano più andare via Adesso carico pioggia E rientro in Val Maira Ciao, ciao Alla prossima Pioggia al domani Ciao, ciao